La Certosa Il Santo Bruno venne qui nell'anno 1991 circa, lui sei anni prima aveva già fondato una Certosa in Francia vicino a Grenoble, poi passando da Roma è arrivato qui in Calabria, ha creato questa seconda casa e è morto nel 1101 dopo essere stato qui circa 10-11 anni. La Certosa essendo di clausura non è visitabile, quindi dal 1994 esiste il Museo della Certosa che racconta la vita dei monaci e fa vedere diversi ambienti della Certosa in maniera fedele, ricostruiti in maniera fedele. La Certosa